benvenuti a tutti in questa nuova live di call of duty black ops 3 oggi come da titolo abbiamo un essere lì dietro che ve lo faccio vedere eccolo che mi sta suotando il frigorifero la devi smettere di mangiarti tutto come detto dal titolo della live oggi faremo una live un po' particolare faremo una live con i pomponi esatto perché c'è gente qui che vuole che io giochi col fucile a pompa allora ho messo già una classe con l'argus vorrei mettere la prossima classe con questo non voglio utilizzarne altri perché diciamo che non sono esattamente i miei fucili preferiti cioè mi stanno anche un po sul cazzo se mi fai cadere le cuffie io ti taglio la faccia ma io perché questa non è in pausa va a fangulo un po ok così e così ci siamo rin grazie mille per l'host allora c'è da fare una premessa io su cod faccio cagare ok abbiamo anche un master prestigio che bello sono sempre contento c'è il microfono messo male scusate 08 kill that and it all to me che bello la gente che si fa il figlio dove cazzo il mio accendino ma è normale che la gente si insulta no guarda voglio mutarli tutti posso mutarli per favore vorrei come si mutano perché già ho sentito parole che non mi piacciono audio dove la chat volume chat dove la chat ci sono i tedeschi che parlano no per favore no dai poi partono i meme devo togliere i numeri di cod là in alto benvenuto in live tipo che mi svuota il frigo allora io voglio mutare tutti oh con invio si si attiva la voce oh che bello no e non scrivere anche tu in lingua c'è prestigio mille contro che palle a che livello sentimi non cominciamo in questo mood perché poi io ti bestemmio in da face no si può solo che sono io che non bestemmio non è youtube in cui se bestemmi devi essere blur per pagare lo farò! this is crazy ating in arrivo nonono no ci ho provato cazzo ragà non so giocare con i pompa io odio i pompa runner Mi ha aperto la faccia La smetti di spammare Poi il bot ti muta Si chiama pomparunner perchè devi correre Sto rushando Ehi la live non si chiama pomparunner Si chiama classico il pompo Poi sto correndo Ora ti stanno insultando in tedesco Mi dici come l'ho lisciato Aspetta c'è uno con la voce attiva Spendila Quanto sono cancri i reaper Porco il cazzo Ho fatto un irrape sicuro Scusatemi Non devo prendere altri armi se non il pompa Game Slayer Corps Grazie per Lost Giusto Quelli che sicuramente avrei ucciso Li uccidono gli altri No 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 Firebreak di merda Tu mi stai sul cazzo Cristo santo Attenzione Eater nemico nella zona operativa Le smirate di beat sono colossali Forse è meglio prendere questo Ragà non faccio tutta la live con i pompa Ah hitmarker da questa distanza Mi piace Posso cambiare classe 2.13 Vabbè io cambio lobby Prestigio 1000 Non ci gioco io Non si può giocare in una lobby In cui c'è uno Che fa 21-3 Mi dici come faccio a fare il pompa runner Con quelli che camp erano là Devi farlo per i tuoi iscritti No no Ti prego me lo spieghi Sistemato Me lo spieghi quell'hitmarker Spregatissimo No 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 Quasi non si può Quasi non si può Vaffanculo Dai Perché non è morto Quello Là è questione di connessione Sicuramente sto laggando Mi stava sul serio aspettando Quanto fai schifo Scusami Non sapevo che tu fossi immune a fucile A fucile da precisione Esci Esci la faccia Esci la faccia che te la apro come un cazzo di melone Di melone Cosa Cosa ha fatto Ma quello è il mio fucile Mi ha rubato il fucile Attenzione Raita ostile in arrivo Attenzione alla torretta rinforzata ostile No raga io non Da sta lobby io esco Cioè Non è Non è fattibile giocare col cecchino O col pompa In questa lobby T'ammazzo T'ammazzo Oh mario io esco Non ci sto credendo Adesso non vedo l'ora di vedere tutti quelli che si sentono fighi In culo a spammare ro Io vado in veterano Vado in veterano tutti contro tutti col pompa Non vedo l'ora di farmi ammazzare e insultare da tutti Che bello Che partita noia Sì infatti Mi ha Brutta 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 sta partita Cioè Non Non aveva molto senso A dire la verità Perché ovviamente Cioè Quando ti trovi contro Gente del genere Non puoi giocare Veterano Tutti contro tutti Ecco Già la vedo male Posso vedere la lista di giocatori che livello sono Io in veterano non gioco da una vita Lo sai che è one shot one kill vero? Con il pompa In veterano Ecco Già ho visto una cosa che non mi piace Tutti contro tutti i veterano Posso uscire? C'è un altro prestigio 1000 Capito perché Veterano è pesante No 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 Questi sono stronzi Siamo chiamati razzo su veterano In nuketown Ma cosa? Ciao 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 Ino Ciao ciao Etto Ciao ciao Oh fuck Ok pompa su veterano e carogna raga E' proprio cancro E questo è rincoglionito L'ho sbagliata L'ho sbagliata tantissimo L'ho sbagliata tantissimo Vai vai Attenzione Approvvigionamento nemico in volo Volevi? Lezzo di merda Idiota mele mele Idiota 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 mele mele Motherfucker Bellissimo raga No Questo mi è piaciuto troppo Mele mele Motherfucker Non posso camperare in veterano Faccio troppo schifo Mele mele Idiota mele 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 Su caglionato Ma perché la gente rompe le palle in veterano? Cioè Giocate Solo tu vai di milì Se tu vai di milì Non capisco perché ci dovrei andare io Suka Cioè questo sta andando di milì Quindi Presuppone che tutti gli altri vadano di milì? Suka Vediamo come mi trovo con l'Argus in veterano Ah vabbè non c'è tempo di respawn Capito perché cancro il pompe in veterano? Uavvio stile in sorvolo Dai come l'ho smirato C'è proprio schifo raga Ah ovviamente se qualcuno prende l'Uav in veterano E Diventa un Cristo Oh Minchia Facevano delle smirate da paura Idiota mele mele idiota Mele mele idiota Chi cazzo è che parla che ti muto? Vaffanculo Non mi rompere le valli Muto tutti Che abilità è? Ah il coso Il Come si chiama? Il mio nome Nubi idiota Mili fuck off Oh no lo smuto è troppo bello Gli smuto tutti dai Voglio sentire ancora dire mele mele Cioè il bello è Siata madafucka Siata madafucka Ma cosa? Qualcuno gli dì? Per favore parlategli Cioè Mele? Non mi dì Non mi dì Mele Mele madafucka Il francese è arrivato adesso O è l'arabo Non l'ho capito Mi stai seriamente dicendo? Ti prego dai Mele non lasciare la lobby Resta qui No no Non gli parlo io Che gli dico? Banani Invece di mele Pere No Se n'è andato l'uomo mele Secondo me è sponsorizzato da Melinda E c'ha proprio la partner Perché Veterano E una modalità qui Non gioco da una vita Allora Non metto Questi due Pompa qui Questi L'eymaker E il brecci Perché sono Odiati Dalla community di code No ma se n'è andato L'uomo mele Quindi E me lo credo Se ne sia andato Sì se ne è andato L'uomo mele Sono dati dalla community di code Perché Tipo Uno spamma Ed è Preciso L'altro shotta in due colpi Ed è veloce a sparare Cioè vai Tutum Shotta In veterano L'eymaker Significa insulti Su insulti Su insulti Cioè in pratica senti Focof E onestamente Non voglio una live Solo di insulti Perché Tipo poi Mi vanno da Twitch Focof Focof Mele Mele Basta Cambio il nome della live In mele Perché quando ti vedo Prendere il tenero Tutti contro tutti veterano Tutti contro tutti veterano Fammi prendere Il pompazzo No non passa Lo avvivo Troppo bello sarebbe Due Uno Black Ops All'opera Ne ho visto uno qui Guarda la camera Quando sei in live Come faccio a guardare la camera La sapevo che girava da là Dovevo prevederlo Nice kill C'è poca gente In sta lobby Minchia da dietro Prendiamo l'Argus Ma su sta mappa I pompa Non vanno per un cazzo Cioè sta mappa Dovrebbe essere piena Per andare bene Quei pompa Oppure io Dovrei essere un pro Usare i pompa Posso cambiare Classe Però continuo a giocare Però continuo a giocare Che è la mimetica Del mercato nero Però ragà Approvvisonamento ostile In volo UAV ostile Individuato Guardian nemico Nell'area Minchia anche un guardian State chiamando il mondo Di ricompensa incisioni Ma chi è sto cristo Io ti vengo a prendere Me ne frega Quante volte muoio Ti vengo a prendere Veterano Non hai neanche Potete stare zitti Che sto streamando Per favore È vero Cioè sul serio Zitti Vedete quella fogna Di bocca Secondo me Quello È un pezzo Di merda Come Come fa a sapere Che entro sempre Da là Ora li vado a schiantare In quel muso Che c'ha Ma non è no 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 Questo sta citando La madonna Dai Sta citando da far schifo È impossibile Che sapesse Che spawnavo da là Minchia che cazzo De camper Io gli schianto in faccia Mo' ho sbagliata io Non è possibile Ok non è possibile Sì L'Hellstorm Vuoi chiamare un'altra cosa? Tanto quello è morto Mi hai cagato La minchia Fattelo dire Sì vabbè Così è facile Però Ha cambiato spot? Ha sul serio Cambiato spot? Non è possibile Senti coso Mi stai facendo incazzare Mo' campero pure io To ma ammazzalo subito Ragazzi Una lobby di quattro persone È una palla sta partita Basta io quitto Basta Io quitto Cioè Non è proprio cosa Non mi sto incazzando Di più Ma io posso fare un lancio Di rifornimenti Vediamo No Mancano ancora Crypto chiavi Vado in TCT Normale Non vedranno Minchia ma di nuovo Sta mappa Ora Cambia gioco Plus Posso cambiare il gioco Posso cambiare il gioco A metà Live Che ho ucciso Va Va Vai Vai a farti Fottere un po' di più E ancora un po' di più Raga È classificato Non è classificato Facile la pompa Ma è un cecchino Ho sollevato il mouse Lo sai Come non giocare a COD Cazzo Io non so Io non so mirare Via 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 Mi ha beccato subito Mi ha beccato subito Thanks Ok Ok No Avevo possibilità Un cazzo di frullatore Devo togliermi dal cazzo C'è il wright Attenzione Tu avvi nemico in arricolo Centrato Siamo sempre in TCT No? Sì C'è qualcuno con l'iMaker Mi sa Dov'era? Non l'avevo visto Non l'avevo visto mai No L'avevo visto dalla minimappa Ma Ci faccio un cazzo Con i firebreak Io Tu cazzo Vabbè Mi sa che mi ha fatto un trick Ah no Mi era sembrato un trickshot Non ha spavolato nessuno qui Cerberus nemico in arrivo Quanto tempo mi ha mirato Minchia Ce n'hai messo di tempo a uccidermi fratello Attenzione Raito stile in arrivo No Mi occorre un recupero d'emergenza Ah vabbè sono tra i primi tre Minchia dice Questo ha gioinato dopo Ha fatto un sacco di kill Avete visto E questo è niente Ma perché ha i DS in TACLAN? Non è normale La gente ha tosta cosa Guarda solo C'è scritto sull'immagine Fake IDS Cosa c'è scritto sull'immagine? C'è scritto sull'immagine Non è la camera I am Demolition Sucker Ma vediamo che cazzo c'è scritto in emblema quello Mi sto divertendo a giocare con quel pompa Però mi servirebbe canna lunga Ma mi sa che la sblocco tra 450 miliardi di anni Che accessorio ho sbloccato? Mi sa il silenziatore No Abbandoniamo la lobby perché Non trovo una lobby piena Deathmatch Deathmatch dovrebbero esserci Allora la cosa più cancro di questo gioco È il Reaper Con il fucile a pompa Perché il Reaper Shotta sempre Quando colpisce con l'arma melee E di solito Rushano e fanno Tac Se non ti prendono col pompa Ti shottano con l'arma melee Scusa Con l'arma melee Versaglio a terra Ma la smettete di uccidermeli tutti Ce l'hai sai Ce l'hai proprio Ce l'hai proprio tanto Dovina cosa? Oh grazie squadra che mi chiamate un UAV Col tipo di gioco che sto facendo Mi serve proprio Hitmarker non si può vedere raga Vai Dai Io lascio scosse elettriche E mine a cazzo di cane Approvvigionamento in arrivo Quando scendono queste cose Io dico Ora prendo le armi decenti Non me l'ho mancato Argus 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 No 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 Devo smetterla di guardare Ah Fuck Ah si Nooo So ammirare come sa ammirare Un cucciolo di foca Proviamo col cecco Dai dai No raga Non riesco a giocare Faccio proprio schifo Attenzione UAV nemico in arrivo UAV alleato in arrivo Libera terra Vediamo le armi serie C'è il team nemico C'è dei cecchi Niente male UAV alleato in arrivo Sopressione fatta Ma quanto usi di sensibilità La tengo bassa normalmente Perché mi trovo Mi trovo molto scomodo Vediamo quanto c'è di sensibilità Forse dovrei alzarla un pochino Oddio Oh raga non ci riesco Comunque benvenuti in live Oh questa sensibilità Mi trovo molto meglio Grazie Ottimamente la mia sensibilità Era un mattone Sì però così I movimenti del mouse Devono essere minimi Dai che gli schianto in faccia Dai che gli schianto in faccia No Ah Devi abbassarla Non alzarla Ah Mi trovo più comodo L'ansibilità più alta Anche se quando Mi trovo in gunfight Parto proprio Male Smiri troppo così Opzioni Sensibilità La abbassiamo Mettiamo a 2 Oh non sono ancora morto Strano No così è troppo A me cambia i dpi di qua Madonna mi son salvato Reaper di merda raga Dov'è il cecco con il mirino termico Eccolo Attenzione Approvvigionamento nemico In volo Avvio stile Mi sa che se lo sono già fatto Quello Il problema è che con la sensibilità così bassa Ho un po' di problemi con il mouse L'hai vinta la gunfight Mi esci la faccia Uno Due Qualcuno mi pare il culo dal lato Per favore Sicuramente Eccolo Dai era un no scoop Quello Dai Prendo questo Dai Andiamo come me la cavo Con l'incendio Raga il problema mio di code E la precisione Perché Se fosse un po' più preciso Riuscirei a giocare bene No Mi ha preso proprio male No Ho mancato Beh effettivamente Ha camperato Un pochino Leggermente Dai Ragazzi Ragazzi intanto dalla live Se volete consigliarmi qualche Benvenuti in live Jack Jack Tenka Se volete consigliarmi qualche classe Da fare Cioè dovrei farla solo con i fucile a pompa Ma Sembra impossibile giocare con i fucile a pompa In questa lobby Cioè in queste lobby Perché ne ho passate Troppe Per ora Ho messo solamente L'argus Come armi E l'altro L'altro fucile a pompa Il primo Perché I maker E brecci Sono davvero Troppo bastarde Come Come armi Quindi se volete consigliarmi una classe Sono qui Le due classi che possono essere fatte Questa Con i pompa E anche quest'altra qui Con i fucile a pompa Non ho molti accessori Perché non ho sbloccato un cazzo Però Ok Anche classi con altre armi Sono aperto a ogni A ogni idea Lei che sta facendo là Minchia Non parli neanche quando sono in live Fai proprio schifo Che cosa uso adesso Strono Allora Inizio a prendere Il cieco Sparo anche io Un colpo a cazzo di cane Così siete contenti Sul serio Torno col pompa dai Questa live Dovrei fare solo pompa Ho fatto hit marker No Non ho fatto niente Allora Ma smettete di lanciare stun Sapete che io Non so come l'ho colpito Non sto giocando Non sto giocando così male Sto giocando proprio da far schifo Facciamo il cecchino col fucile a pompa Ma dove li ho sparato Ma dove li ho sparato Ah no Nella sua killcam non li ho sparato proprio Che bello Le kill da host Non ne ho ucciso neanche uno No Sarebbe stata una triple kill quella Sprecato lo schianto e mi sono fatto ammazzare fanculo Sono un pirla Senza mani proprio Raga qua mi quiccano No Neanche per il cazzo Aiuto Dove cazzo è andato Non avevo visto bene Non ci riesco Non ci riesco È una cosa assurda Bene Ho vinto il gunfight all'ultimo Via Quindi loro sono spawnati qui quindi non dovrebbero essercene Perché ho smesso di sparare Perché ho smesso di sparare C'è E dove Ma fai proprio schifo figlio mio Fuori uno Madonna che culo Ho avuto più culo che anime in quella kill Tanto non lo facciamo il comeback Abbiamo perso anche questa Che schifo Che schifo Un organico non può fare il lavoro di una macchina E' arrivata la squadra genio Mi sa che oggi la live la concludo qui signori Perché Non è giornata di Call of Duty Proprio per un cazzo Vediamo se ho almeno 30 cripto chiavi per Sbloccare i rifornimenti Fare un lancio di rifornimenti uno Bello è che prima di Iniziare la live Stavo giocando bene No Non posso fare neanche un lancio di rifornimenti E me li tengo per poter fare questi Più avanti Potrei andare avanti con questi Ma Tanto Non otterrei nulla Signori Io vi ringrazio tantissimo Per aver seguito questa live Oggi dura un po' di meno rispetto al solito Perché Non è giornata di coda A quanto pare Non sto riuscendo a fare una kill decente Non sto riuscendo a fare una partita decente Quindi invece che portarvi un Il gameplay brutto Ancora Preferisco terminarla qui E magari Fare qualcosa di decente Settimana prossima Su Codo Su Battlefield Perché vorrei portare anche Battlefield Solo che per giocare su Battlefield Mi servirebbe un team Quindi Bla 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 Io vi ringrazio tanto per aver seguito questa live Se vi fosse piaciuto Invito a passare Dalle Pagine Facebook Mie di Gameslayer Corps Passate anche dal canale Twitch Dei Gameslayer Dove mi trovate in live Con la serie di Dark Souls Ogni mercoledì E ogni domenica Con un gioco random Oppure con una nuova serie Che ancora non abbiamo deciso qual è Ehm Nulla da una serie di J-Beat E tutto Buon proseguimento di serata Ciao Ciao